Ciao, ecco un altro video. Allora, gestiamo le tabelle e gestiamo le linee in QGIS. Allora, sì, perché quando si ha a che fare con QGIS forse non si ha ben presente come la gestione delle linee, i colori, attribuire la tipologia di una linea come se fossero le strade e attribuire questo a delle categorie diverse in modo tale che prendono dei colori diversi. Partiamo subito con in OSGeoLive, in OpenStreetMap c'è uno schema delle linee, delle strade, lo aggiungo. Queste comunque sono tutte le linee, per completare un po' il quadro carichiamo sotto Google Map, Satellite. Sì, ha dato questo errore perché ho visto che nel nuovo 2.4 non fa la proiezione al volo, quindi bisogna impostare la 3857 e poi successivamente possiamo caricare le nostre, diciamo, le foto salite editare, OpenStreetMap, questo plugin, OpenLayers plugin e tutte le varie mappe. Allora, cerchiamo di capire in queste linee, prima di tutto, quali sono le strade. Allora, mettiamo che abbiamo tutto un disegno che porta dentro le linee in generale. Adesso possiamo vedere che qua sicuramente ci sono le linee di costa, le linee del fiume, ci sono tante strade, ma probabilmente ci sono anche molte e molte linee. Allora, come si fa? La prima cosa è, apriamo la tabella e cerchiamo di individuare qual è la colonna che dice, queste qua sono linee, queste qua sono altra cosa. Abbiamo tante colonne, perché queste qua derivano tutte da OpenStreetMap, sì, potrebbe essere un po' magari difficile se non si conosce bene lo schema di OpenStreetMap, però io vi dico che quando andiamo su OpenStreetMap e attiviamo una linea, si usa iGway e si dà una categoria appunto a iGway. Quindi qua ci sono un classified, terziarie, secondarie, servizio, residenziali. E poi, tutte le altre, ad esempio se andiamo a vedere questa, probabilmente non ha nessun valore in iGway, se noi zoomiamo, probabilmente non è una strada. Infatti sembra di più qualche linea, sarà qualche linea elettrica, beh, in effetti potremmo risalire, comunque questa qua è sicuramente una strada, quindi non abbiamo un valore in iGway, nella colonna iGway. La portiamo su in alto, ok, questa, adesso appare qua sopra, questa linea è selezionata, in iGway non c'è nessun valore. Mentre se andiamo a scorrere negli altri colonne, troviamo che è un confine amministrativo, administrative level. Vediamo se c'è qualcosa di più, boundary, administrative. Quindi una semplice verifica per dire, ok, di tutte queste linee ce ne sono alcune che non sono strade. Questo è un modo per individuarle. Bene, noi cosa facciamo? Abbiamo individuato che la colonna iGway tiene in considerazione tutte le strade. Diciamo, la prima cosa che si fa è, si entra nelle proprietà, si dà uno stile categorizzato, in base appunto alla nostra tabella iGway, facciamo classify. Ci sono tutta una serie di strade, non classificate, terziarie, trunk, road, residential, e poi ci sono queste che sono con valore nullo. Per verificare se è vera questa cosa, diamogli questa cosa che ho appena detto, diamogli una campitura grossa e fucsia. Per individuare, rispetto agli altri che hanno una campitura più fine, quelle che sono effettivamente, se effettivamente queste non sono delle strade. Come abbiamo visto, teniamo in considerazione una piccola area, effettivamente quelle viola non sono strade. Però ad esempio, abbiamo questa qua, che ho visto adesso, ho il tasto, solo zoom meno. Questa strada, che è fine, ha una sua classificazione, è comunque una strada pedonale. E' bellissimo che è stata disegnata questa strada pedonale, però ad esempio c'è questa che va in mezzo al campo, probabilmente è una strada vecchia. In effetti qui c'è la strada, qui non c'è la strada, la strada continua, non so per quale motivo, magari è stato fatto un intervento di recente, un intervento di recente, adesso non so quanto risale l'aggiornamento di questo OpenStreetMap, però magari dopo possiamo vederlo anche insieme se c'è stato l'aggiornamento di OpenStreetMap in questo punto. Quindi, ok, proviamo però ad esempio a correggere questa strada. Prima di tutto, eliminiamo queste strade viola, perché abbiamo visto che queste linee viola non sono strade. Possiamo aprire la query e dire che, qua sotto, se scorriamo un attimo, query, se agway uguale, facciamo un contenuto uguale a nulla, mi dice che sono 0. Se invece facciamo agway uguale, praticamente senza nessuno spazio, è sempre 0. Proviamo a fare isNull. Ok, il comando giusto è agway, dove isNull, con questa query io vedrò solo quelle viola. Sono sparite tutte le altre. Noi avremmo dovuto fare al contrario, quindi con gli agway isNull mettiamo not agway isNull. Facciamo ok e appaiono tutte le strade tranne quelle viola. Quindi tutte quelle strade che hanno un certo valore nella colonna highway. Adesso gli diamo una... Rifacciamo la classificazione. Prima facciamo cancella tutto, riclassify. Sarebbe meglio cambiare prima, qua. Mettere un 1, così da uno spessore, che quando faccio classify, almeno me li da tutti con un certo spessore. Apply. Eccole qua. Bellissimo, mi piace sempre utilizzare questo esempio. Allora, nelle versioni precedenti io non potevo fare un'editazione sulla query. Adesso vedo che c'è la possibilità di schiacciare e editare. Prima praticamente questo planetosm line che è generato da una query. Query uguale agway. E' lo stesso identico di planetosm con tutte le linee. E quando andrò a modificare, modificherò direttamente sempre lo stesso linee di partenza. In questo caso andiamo a modificare per semplicità attraverso una query. Quindi, appunto, questa operazione non si poteva fare prima delle versioni di QGIS precedenti. Adesso si può fare. Era semplicemente un blocco dell'operazione. Quindi andiamo prima a vedere. Punto 1. Come modificare questa linea. Dirgli che questa linea non esiste. Andiamo in Start Editing o Toggle Editing. Selezioniamo la linea. Tutta questa linea. Dobbiamo spezzarla in questo punto, in questo punto e in questo punto. Di default non è fuori l'Advanced Editing. Schiacciamo il tasto destro. Advanced Digitalizing. Ok. Utilizziamo. Queste due sono molto simili come strumenti. Questo fa Split Part, fa un'operazione un po' diversa. Praticamente spezza le linee e poi le tiene tutte e due. Quindi noi dobbiamo utilizzare questo. Split Future. Sulla riga selezionata, noi possiamo andare a schiacciare il primo punto, il secondo punto e il terzo punto. Come vedete però, non c'è uno snapping. Dobbiamo quindi abilitare lo snapping. Per abilitare lo snapping, vedete, io ancora, si vede sicuramente poco. Però, se vedete, c'è una linea che me la porto dietro. Quindi, mentre io sto tracciando la prima linea, mi accorgo che non c'è lo snapping. Non devo annullare tutto, ma semplicemente, se io faccio così, col tasto Backspace, posso tornare indietro. Quindi sono tornato indietro. Rischiaccio. Vado a cercare nel menu Setting, Snapping Option, al vertice, la tolleranza è, preferibilmente, quando si opera con sistemi di riferimento diversi e la proiezione al vieno, magari è più facile mettere pixel. E io metto 10 pixel, quindi 10 pixel sullo schermo. Faccio OK. E vedete che adesso appare... Vediamo se faccio con la lente di ingrandimento. Vedete? Oh, che bella questa lente di ingrandimento. Io faccio lo snapping su i vari punti. Adesso quello che mi serviva era, tra l'altro, un punto non di snapping, però vabbè, perché io avrei dovuto spezzarlo esattamente qua. Si può anche impostare nello snapping option sia il vertice sia il segmento. Faccio OK. Adesso vedete che corre lungo la linea. Io esattamente clicco qua. E poi, se schiaccio invio, mi dà errore. E mi dice appunto, no future where split. Perché io devo dare un primo punto fuori. Un primo punto, un secondo punto dove devo tagliare. E un terzo punto fuori, dall'altra parte. Dopo aver chiudato questo terzo punto, posso schiacciare il tasto destro e vedete che la linea si divide. La linea devo anche spezzarla dall'altra parte. Perciò primo punto, qua mi viene comodo usare questo punto che è già esistente, questo nodo che è già esistente, terzo punto, tasto destro. E ho spezzato questa linea. Cosa faccio di questa linea? O posso semplicemente cancellarla. O adesso schiacciato CTRL Z per farla riapparire. O tolgo aspetto a questa lente di ingrandimento. Oppure, vado negli attributi. Ho schiacciato zoom to layer. E questo non va assolutamente bene. Ritorniamo, perché tanto che la linea era selezionata, ho fatto zoom to select. Quindi, dicevo, invece di eliminarlo, vado nelle proprietà degli attributi. Porto in alto la linea selezionata, è questa. Vado su Iguay. Invece di residenza, scrivo vecchia, old. Non esiste. Questo non esiste. Adesso io salvo l'editazione. Questo non esiste. Ha preso un colore che non è tra questi classificato. Perché lui mi ha detto, ok, io classifico tutte le tipologie. Tutte le altre tipologie che non hanno un valore corrispondente a queste, me le fai viola. Però, quello che interessa a noi è capire se quella ha effettivamente preso il valore che gli abbiamo assegnato. Quindi io vado qui, faccio add. Lui mi ha aggiunto un nuovo livello. Lo chiamiamo non esiste. Anche la lettera non esiste. Quindi strada che non esiste. Questa è la differenza tra il valore trovato nella tabella e il valore che adesso andiamo a verificare, a vedere qua. Sì, adesso ho editato, ho aperto queste finestre e non mi fa schiacciare qua fuori. Quindi non esiste. Gli diamo un tratteggio. Invece di solid line facciamo dot. Diamogli comunque uno spessore. Un colore bianco. E facciamo apply. Questo risulta essere la strada che non esiste. Quindi noi con una query le possiamo eliminare. Non abbiamo cancellato il dato perché magari vogliamo fare un'editazione di partenza. C'è un'editazione temporanea che magari qualcuno in un secondo momento potrà effettuare la vera cancellazione. Secondo step. Noi abbiamo visto che ci sono delle strade, come ad esempio questa viola che probabilmente è residenziale. Lo verifichiamo subito schiacciando il tasto di informazione. Questa è highway residential. E la stessa strada che continua, che ha un altro colore. Questo potrebbe essere un errore. Oppure, che durante l'aggiornamento di OpenStreetMap questa strada non era ancora residenziale, ma era ancora in costruzione. Noi abbiamo verificato che questa strada c'è. E se la volessimo cambiare da costruzione a residenziale abbiamo principalmente due modi. Il primo modo è selezionarla. Portare in alto il valore. Andare sulla colonna highway, che è quella che adesso mi interessa. Partiamo con l'editazione residenziale. Salviamo, chiudiamo. Ed è cambiato. Solo che ci accorgiamo che questo qua non ha preso lo stesso valore. Perché probabilmente abbiamo inserito un valore sbagliato. Non abbiamo inserito residenziale. Ma magari nella digitazione abbiamo commesso qualche errore. Verifichiamo. Questo qua è residenziale e questo qua invece è residenziale. Eccolo qua l'errore. Cosa si può fare? Eccolo qua l'errore. Eccolo qua l'errore. Eccolo qua l'errore. Eccolo qua l'errore. Il primo modo è selezionare tutte e due le linee. Eccolo qua l'errore. Eccolo qua l'errore. Questo mi permette di avere un errore. No, si è bloccato. Ok, è andato. Ma questo diciamo è sempre un metodo manuale. Abbiamo un ultimo metodo. Adesso torno. Sì, riscriviamo un errore. Riproviamo a ricreare l'errore di questa strada. Ok, mi ha dato errore. Sì, quando dà errore così, riapriamo l'editing. E continuo a schiacciare veloce il tasto destro e mi fa zoom to layer. E' questo. Come si fa a tornare indietro? Al precedente zoom. Zoom in, select, pull, zoom. Zoom, zoom last. Eccolo qua. Bellissimo questo pulsante. Quindi, seleziono la linea. Ricreo l'errore. Ricreo l'errore per effettuare il secondo passaggio. Sono in start editing. Mettiamo residenziale. Residenziale. Salvo. Chiudo. Questo mi ha generato un errore. Quello che vi voglio far vedere è un comando. Io seleziono tutti e due i campi. Faccio l'editing. Ehm... Merge semplicemente gli attributi. Quindi questo mi permette di avere un unico elemento. Invece questo, cioè, invece delle due linee, io posso prendere queste due linee e unirle geometricamente. Mentre questo altro pulsante fa il Merge soltanto degli attributi. Qua mi chiede, però, che l'operazione di Merge deve essere fatta o su uno o sull'altro. Perché non mi può dire prendere sia residenziale sia residenziale. Lui automaticamente mi prende residenziale. Ma è semplicemente un caso. Io posso andare qua, residenziale, o residenziale. Take attribute from select future. Lo prende residenziale. Però noi vogliamo prenderlo da questo. Da quello originale. Quindi, residenzial. E quello che faccio è schiacciare ok. Lui me l'ha preso. Me l'ha salvato. Ed è questo quanto. Quindi, abbiamo visto come caricare un livello lineare. Come individuare quello che ci serve. In questo caso, a noi ci serviva sapere quali erano di tutte quelle linee le strade. L'abbiamo individuato. E poi siamo andati a correggere alcune strade. La prima strada, gli abbiamo detto, questa strada non esiste più. Però invece di cancellarla, abbiamo dato un valore. Ad esempio, strada non esiste. E la seconda strada, che abbiamo visto che non è più in costruzione. Gli abbiamo dato un valore simile a una vicino. Quindi a quella residenziale. Abbiamo quindi cambiato nella tabella attributi di quella specifica strada il, diciamo, la keyword, come si dice in OpenStreetMap da costruzione a residenziale. Quindi abbiamo consolidato lo schema del grafo stradale. Questa operazione è necessaria farla qui. Infatti vediamo che questo qua è tutto un quartiere nuovo per quello che era scritto in costruzione. E appunto, magari sarebbe interessante se questa modifica, noi, in OpenStreetMap, visto l'aggiornamento, questo non so di che anno è questo aggiornamento, è già comunque stata fatta. Quello che dobbiamo fare, la cosa più veloce per capire che quali sono le coordinate queste, potrebbero essere queste, ma sono in Webmercaton. Quando apriamo OpenStreetMap è preferibile mettere dentro, copiare e incollare le coordinate in WGS84 sferiche. Quindi per fare questo, chiudiamo Google Satellite perché sennò ci dà l'errore, riproiettiamo in... Prima di riproiettare, facciamo una selezione così sappiamo che se perdiamo lo zoom, almeno, ritorniamo esattamente lì. Qua mettiamo 4, 3, 2, 6, ok, no, ok, mi hanno mantenuto qua. Noi andiamo a copiare queste coordinate, dovrebbe averle prese, andiamo in Firefox. Andiamo sul sito Osm, sempre online social manager, OpenStreetMap, eh, sì, ok, facciamo OpenStreetMap, eccolo qua, bellissimo, stupendo progetto OpenStreetMap, incolliamo le nostre coordinate, facciamo Go, OutOfRange. No, hm, ah sì, perché? Eh, sì, sì, qua sono al contrario, è 45, ok, perfetto. Zoomiamo. Sono al contrario, latitudine e longitudine. Dovremmo esserci... Hmm, se... Questa strada risulta ancora in costruzione. Eh, sì, qua non ho l'accesso, ma andiamo sul... sul mio, osm, vediamo se riesco a fare incolla, no, non mi prende le coordinate da un sistema all'altro, Oregon, facciamo un share, sì, però dovrei metterlo qua dentro il mio account, perché... Invia, controll'alcance, visualizza dispositivi, aiuto, visualizza... Niente, comunque è finito quello che volevo fare, volevo fare proprio appunti condivisi da West a bidirezionale, quindi... Copio. Se funziona, è bellissimo, è una figata pazzesca. Entro. Qui faccio modifica, questa strada evidentemente non è più in costruzione, però non è ancora stato aggiornato. Avevo delle ultime modifiche... Ah, ok, perché... Perché non è ancora stato aggiornato qua, vedete perché è in costruzione? È proprio qualcosa di molto recente, quindi... Vabbè, adesso... Prima a cambiare layer... West layer, large, però è una large scale... Open street... Binga aerial... Eh no! Questo è un altro bellissimo fotolivello Photomapillary, che ormai è completamente integrato. E niente... Sì, semplicemente io potrei dire che qua è invece di residential e invece di construction residential. E dire che la mia modifica è perché è stata fatta da Google. Però vabbè, lasciamo perdere per il momento, andiamo su qualche caso più concreto. Però magari potrebbe essere divertente avere qualche interazione con... Quindi, una strada nuova trovata su Google Map durante un'esercitazione con Google Map. Gis su osgeo live. Tenzo. Salva. E poi, vabbè, condividere. Bene. Tutorial lunghissimo, però spero che serve. Ciao. Grazie. Grazie.